Giovanotte, basta questa musica speak English Spopamene in una bella tarandella siciliana E ne schicchienamo tutte, siamo pronti? Aho, tu ne avanza, levo però a mezzo, che ne stanno con questa danza Attacca, cola! Forza, che voglio dire se salitiamo! Aspettiamo! In scena,舉va! A quelli del centro. La volle del centro. Alống del centro. Perchè, a una bella tarina, e a una bella tarina, e a un'altra. La tenda breva, non è una bella tarina. La terza tra il centro. E si scendono prima mattina con il tazzo semplice. No Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Inizia! Aguri! 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 Ma madre! Ormai non fa questo! Ma adesso è bomba! Aguri! 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 BOOM! 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 Avanzo qualcuno! BOOM! 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 Aguri! Aguri! Un felice anno nuovo! A te Willy! VIVA LA FIGA! Aiai! Caramba! Aiai! 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 P*********! Aiai! Aiai! Guarda il dito mi ha bruciato! Ma hai pensato il piede! Oh ma adesso bruciate! Viglio! Aiai! Dimmi da un cambio! I programmi nel carabinio! Aiai! 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 Guarda che fumo! Guarda che fumo! Andiamo giù a fare altro! E poi si! Guarda! Aiai! 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 scoda povero caso! Prima di chi se mi amoamagate! e creditsi Tocco Aiai! Aiai! Chegl'è missione Oggia! Aiai! Oh bello! Aiai! no che sopra fa venire al post v***** 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 GRANBAM v***** v***** ma sta riprendendo? aspetta aspetta cos'è? cos'è? di video? facciamo la scena che accendiamo in due poi accendendo in due via 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 vengo sotto casa sono delle case popolari io che è qua? se cazzo che sa dove va il mio guarda dove va il mio guarda le perfette eh qua perchè non va? perchè lo so perchè se voi mettete sotto e l'altro? qual'altro buola? questo era fino noi ma speriamo che parte ma non puoi dire no ma quello non è minchia non è una cosa minchia non è una cosa minchia puoi mettiamo Macgyver tatatata az Tom la a a a a a ma 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 che cazzo loro questo la cosa non lo scorreggio però dai rifiace all'ultimo mi sfrattano che cos'è la bomba a mano aspetta aspetta facciamo notare ai telespettatori da casa quanto è lunga la miccia per non creare allarmismi facciamo notare facciamo notare facciamo notare facciamo notare facciamo notare facciamo notare facciamo notare